Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Jessica A.S.M.R. Da come avrete potuto notare dal titolo, oggi utilizzerò un pennello per fare un po' di washing camera. Mi è stato richiesto sotto nei commenti e quindi ci tenevo a farlo. Mi raccomando, tu come sempre rilassati, 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 rilassati. Strajati sul tuo letto, sul tuo letto, sul tuo letto e cerca di non pensare a cose negative ma concentrati solo sulle cose positive. Nel frattempo io cercherò di farti rilassare appunto con l'aiuto di questo magico, 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 magico pennello. Segui il pennello Segui il pennello Segui il pennello Questi Qua Per 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 Buff, Buff buff Tico, 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 tico Tico, 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 tico RELAX ok point rilassati chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi fatti agcarezzare il viso con questo morbidissimo pennello e rilassati che questa è la cosa più importante relax, 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 relax sei bellissimo x2 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Vi assicuro che questo pennello è davvero morbidissimo. Morbido, morbido, morbido. Addormentati, addormentati, addormentati. Addormentati, 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 addormentati. Chiudi gli occhietti, chiudi gli occhietti. Chiudi gli occhietti. E nulla ragazzi, questo era il video. Io spero che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere sotto con un commentino, con un mi piace e iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti. Sì, siamo arrivati a 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Davvero ragazzi, io non ci credo ancora. Per me è un traguardo grandissimo, 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 grandissimo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Buonanotte, 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 buonanotte.